... Vedete che gli alerba, ma tenete la curta lì, quanta lì è? Guardate, favo a dire, è alle 3 centimetri Ora che ora siamo qui al Parco Nazionale del cosiddetto delle Goriere è uno dei parchi più grossi che è in Europa considerate che è grosso quante l'Emilia Romagna e la Toscana Ho ricevuto da poco una telefonata da Trump e mi ha detto che vuoi vedere anche lui questo coso qui perché non è là lui, non è là in America, non è anche a Central Park aspettate un attimo che facciamo un'altra campagna ma va anche dritto, guardate ma se va anche dritto ... 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